Una serata, quella organizzata dall'Associazione 5D e da Jasmine Cinema Moda & Dance, dedicata non solo alla musica e alla moda, ma un'occasione per parlare di violenza di genere e lanciare un messaggio forte, attraverso un flash mob messo a punto delle ragazze dell'Associazione Jasmine. Alessandra Pulimeno e Silvia Nasuti, rispettivamente presidenti dell'Associazione 5D e Jasmine Cinema Moda & Dance, sono da tempo attive in ambito di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Per questo motivo si sono anche rese attive promotrici di qualche posto occupato, un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne spiegano, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla loro vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola e metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché nessuno possa dimenticare, affinché il mondo non lo sommerga. Una serata densa di interventi, di riflessioni, ma soprattutto di emozioni, arricchita dal gruppo musicale I Frate e dal flash mob delle ragazze di Jasmine Cinema Moda & Dance. Innanzitutto sono doverosi i ringraziamenti all'Associazione 5D, che ha voluto fortemente questo evento e che unisce un pochino diversi aspetti culturali e questo è davvero anche un pregio e per questo i complimenti vanno sicuramente agli organizzatori, perché unisce sia l'aspetto, quello della moda, quindi vedremo sicuramente delle bellissime sfilate con brevissimi eleganti anche sia ragazzi che ragazze, ma anche e soprattutto abiti, quindi avremo modo di vedere anche delle peculiarità dal punto di vista stilistico e sartoriale. Poi si è unito anche il concerto, l'evento musicale, ma la cosa più importante è il significato della serata sia che contro la violenza sulle donne. Simbolicamente c'è il posto occupato, che è un'iniziativa che avevamo anche adottato nella precedente consigliatura nel Consiglio Comunale e che ancora ci accompagna, oggi lo vedremo qui. 5D è un'associazione che si dedica e dedica la propria attività proprio su questo argomento e quindi è importante esserci, esserci in questa piazza, ricordare che la violenza sulle donne è un qualcosa che oggi rappresenta una piaga sociale e che dobbiamo tutti insieme, istituzioni, associazioni, terzo settore, liberi cittadini, cercare di superare e di risolvere. Secondo me la strada delineata è quella giusta, è quella della cultura, perché il cambiamento è un cambiamento soprattutto culturale, dove si valorizza per quello che è, per quello che è giusto il valore fondamentale di una donna che non ha nulla da invidiare certamente a un uomo e per questi motivi, anzi può essere molto spesso lo è, un propulsore della vita sociale delle nostre comunità. Una serata questa di musica, di moda, ma dove viene dato un messaggio molto importante che è appunto un messaggio che riguarda la violenza sulle donne. Credo che mai, come in questo momento, sia un messaggio forte e importante da dare per una recrudescenza, anzi direi che è un fenomeno che non è mai andato, diciamo, non si è mai allentato, ma è sempre stato in continuo aumento, sia in Italia, ma purtroppo, ecco, leggiamo anche dalle cronache del straniere, insomma, anche all'estero. E quindi credo sia fondamentale, al di là di quelli che poi sono le date, diciamo così, ormai storiche per parlare di violenza sulle donne, credo che qualunque iniziativa debba essere invece utilizzata per lanciare un messaggio che sia un messaggio culturale, perché la violenza sulle donne deve proprio vedere al centro dell'azione un cambiamento culturale. E stasera è il messaggio che noi vogliamo lanciare attraverso anche Posto Occupato, che è un'iniziativa che è partita nel 2013 dalla Sicilia, ma che poi ha investito tutta Italia, con, appunto, lasciando un posto, che sia in una qualunque situazione, che sia all'interno di un'attività, di un ente, all'interno di una scuola, in un concerto come questa sera, sia lasciato un posto occupato per chi non ha più voce, per chi non c'è più. Io credo che questi simboli debbano essere lasciati affinché le coscienze possano, in qualche maniera, meditare su quelle che, appunto, sono le morti, le morti che avvengono per mano di un compagno, di un marito, di un fratello. E quindi credo che il messaggio debba essere continuo e debba essere quanto più sensibile, bisogna arrivare a sensibilizzare quanto più possibile la società, affinché queste azioni possano assolutamente essere fermate. Noi siamo la Jasmine Cinema, Moda & Dance, associazione di cinema, moda e danza. Io sono la Presidente, di là da me abbiamo la nostra collaboratrice, Patrizia Perrone, con lei che si è occupato di questo evento, nella riuscita di questo magnifico evento. Di là da me ho l'ambasciatrice di Miss Bebimondo, Jasmine Ilari Malafarina. Noi siamo un'associazione che ci occupiamo al 100% di moda, abbiamo dei concorsi a marchi registrati, concorsi internazionali, Mister e Mister Bebimondo d'Italia e Models of the Year. Viaggiamo ovunque, sia come Fashion Week, Sanremo 2022, Eurovision 2022, già ormai diciamo che siamo due annetti su questo campo. Stasera siamo qui a Bovarino per farci vedere, ringraziando sempre la gente di Bovarino che ci ha ospitato. Saremo in concerto con i frate, un gruppo meraviglioso del nostro territorio. Ringraziamo tutte le persone e i collaboratori che ci hanno aiutato di nuovo questa sera e inoltre invitiamo dai più piccoli alla categoria delle over a seguirci presso la Jasmine Cinema Modern Dance, sia su internet sia nei vari siti social. Grazie a tutti.